Credo che quest'anno ha un significato particolare, questa settimana proprio per il 500esimo della Riforma è una settimana che però porta sempre un po' alla radice di quello che è il movimento ecumenico cioè la grande aspirazione del cuore cristiano che si mette in sintonia con il desiderio di Gesù che tutti siano uno. Il tema è l'amore di Gesù Cristo, si spinge verso la riconciliazione tratto dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi capitolo quinto e viene dalla Germania, ogni anno il tema viene da un paese diverso e quest'anno è stato preparato dalle chiese tedesche dalla comunità di lavoro e dalle chiese della Germania, quindi già qui c'è un intreccio notevole. Alla fine il metodo della settimana di preghiera dell'unità dei cristiani porta proprio a questo essenziale, a questo spirito che opera l'unità tra i cristiani e quest'anno lo invochiamo con particolare intensità chiedendo al Signore di darci almeno degli occhi nuovi per leggere la storia così come è avvenuta ma in maniera comune, in maniera condivisa e questo sarebbe già un grande passo per superare le divisioni. Si è già incominciato a percepire un altro clima da quando Bergoglio è diventato Papa Francesco, già lì sono cambiate le cose nel senso che Papa Francesco imposta i rapporti ecumenici sull'amicizia e sulle relazioni umane più che sulle questioni teologiche che sono quelle che in fondo dividono ancora le chiese. Quindi già a partire da quando Bergoglio è diventato pontefice si è percepito un altro clima e poi soprattutto ho avuto il grandissimo piacere di essere a Lundia Malm in Svezia alla fine di ottobre dell'anno scorso quando Papa Francesco è stato invitato ad aprire proprio le celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario della riforma e lì ho percepito un clima veramente estremamente positivo sia da parte cattolica sia da parte dei rappresentanti della Federazione Luterana Mondiale i quali hanno apprezzato moltissimo questa presenza di Papa Francesco e lì c'è stato un clima ecumenico veramente straordinario. E durante questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ci sono moltissime celebrazioni a livello locale, a livello di parocchie e di comunità. Poi come di consueto c'è la celebrazione ecumenica cantonale organizzata dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane nel canton Ticino che quest'anno avrà luogo domenica 22 gennaio alle 16.30 nella chiesa anglicana di Lugano in via Mareini quindi questa volta le chiese cristiane saranno ospite della comunità anglicana. Poi qui in Ticino abbiamo la fortuna direi di avere otto chiese che fanno parte di questa comunità di lavoro più la chiesa ventista che è osservatrice per cui da quando esiste la comunità di lavoro prima ancora c'era la commissione ecumenica di dialogo si sono intrecciati dei rapporti di amicizia tra queste varie comunità ed è interessante scoprire un'altra comunità come in questo caso la comunità anglicana che esiste in Ticino dall'inizio del secolo scorso in altri casi faccio l'esempio della comunità copta che è molto piccola comunque molto attiva dove ci sono i siri ortodossi e tante altre chiese quindi si impara a conoscersi reciprocamente e ad apprezzare alcuni aspetti che in certe chiese sono più importanti che in altre. Ecco nella chiesa cattolica i sinodi sono quelli dove si trovano tutti i vescovi per parlarsi e l'ultimo sinodo per esempio era sulla famiglia quindi riunione di persone che si ascoltano insieme il sinodos credo che significhi proprio questo. Allora nelle altre chiese cosa vuol dire però la sinodalità? Ma la sinodalità è una componente essenziale e fondamentale ad esempio nella chiesa ortodossa o tra le chiese ortodosse ci sono 14 chiese diciamo così nazionali autocefale ognuna si guida da sola però sono unite dalla stessa fede però a livello organizzativo ogni chiesa si gestisce autonomamente e questo è un po' anche quello che succedeva nella chiesa primitiva. Papa Francesco insiste molto su questo aspetto perché si è parlato molto nel passato anche in particolare sotto Giovanni Paolo II di un eccessivo centralismo romano e alcune conferenze episcopali, alcune chiese nazionali hanno criticato un po' questo centralismo e Papa Francesco dice secondo me giustamente che a livello di fede non si discute però per certi aspetti organizzativi ogni chiesa deve avere una certa autonomia ogni chiesa nazionale, ogni conferenza episcopale deve avere una certa autonomia per prendere alcune decisioni perché la sensibilità è diversa per esempio tra le chiese cattoliche africane, quelle asiatiche, quelle europee quindi Papa Francesco insiste molto sulla questione della sinodalità e questo evidentemente avvicina molto la chiesa cattolica alle chiese ortodosse. Uno dei frutti del sinodo svizzero del 72, cioè dopo il concilio Vaticano II è stata proprio questa apertura all'ecumenismo. Ora nella diocesi di Lugano si è creata questa commissione ecumenica cantonale formata ufficialmente dalla chiesa cattolica romana e dalla chiesa evangelica riformata. Era un dialogo a due. Poi piano piano sono giunte altre comunità cristiane in Ticino, altre esistevano già, altre sono arrivate dopo, penso in particolare agli ortodossi dopo tutti i rivolgimenti che ci sono stati nei Balcani, per cui si è cercato di prendere contatto anche con queste varie comunità che sono diventate dapprima osservatrici in seno a questa commissione ecumenica di dialogo cantonale e poi tutto questo dialogo ha portato nell'anno 2000 alla fondazione, alla creazione della comunità di lavoro delle chiese cristiane nel canton Ticino. L'aspetto interessante è che tutte queste chiese, dalla chiesa cattolica romana che evidentemente è la più importante in Ticino, la chiesa copta che forse è la più piccola, tutte hanno lo stesso peso insieme a questa comunità di lavoro, nel senso che ogni chiesa può mandare una delegazione al massimo di quattro persone, però ogni delegazione ha un solo voto, quindi il voto della chiesa cattolica romana conta come quello della chiesa copta e c'è stata questa evoluzione appunto che ha dato, secondo me sta dando anche degli ottimi risultati. Fin dall'inizio direi lo spirito scende e si depone come una fiammella su ciascuno degli apostoli, un segnale molto evidente che la chiesa non può essere uniforme, che deve valorizzare diverse forme di adesione al Signore Gesù. Certo questa diversità che non compromette l'unità o anzi la favorisce, è un dono dall'alto e per questo dobbiamo invocarlo con particolare forza, questo dono dello spirito che ci mette insieme diversi e ci fa vivere una profonda esperienza di unità.